Noi ci auguriamo che anche attraverso la vaccinazione si possa ripartire un po' più in tranquillità rispetto a quanto è successo l'anno scorso. I dati ci fanno pensare che tutto è possibile se ognuno di noi fa la propria parte ovviamente e la ripresa è una ripresa che potrebbe essere interessante, abbiamo l'incognita appunto della questione degli approvvigionamenti e dei costi che stanno lievitando per quanto riguarda il manufatturiero. Oltre al confronto con i comuni che sono al voto noi abbiamo predisposto delle richieste che invieremo nei prossimi giorni all'ULS per la riorganizzazione di tutte le strutture presenti nel territorio anche sulla base delle molte risorse che arriveranno dal piano nazionale di resilienza e la stessa cosa la stiamo facendo anche con le case di riposo per capire qual è la prospettiva futura delle case di riposo perché indubbiamente la pandemia ci deve interrogare sulle soluzioni diverse da quelle che si pensavano di fare rispetto al passato.